buongiorno a tutti oggi volevo fare un piccolo video di servizio ovvero adesso vi leggo un comunicato stampa ciao il 23 a milano ci vediamo con tizia caia semproni e un po di picco palline su youtube a tale ora in tale posto facciamo una passeggiata beviamo qualcosa di fresco ci sputtaniamo un po di soldini in negozi vari ovviamente e facciamo foto e video per documentare il pomeriggio sarei contenta se veniste anche voi ok a parte gli scherzi questo è un po il senso di questo video ovvero è qualche giorno che io mi stanno a savanna meren e anche c'è il pandemonium spero di averlo detto giusto chiacchieriamo su facebook in merito a questa possibilità io non ho mai fatto incontri perché la mia idea di incontro è un po diversa da quella che spesso vedo qui su di tubo ovvero io non voglio fare un raduno non lo so mi piacerebbe l'idea di incontrarci a bere qualcosa fare due chiacchiere una cosa molto tranquilla molto molto alla mano molto easy quindi l'idea con queste amiche è stata di vederci a milano il 23 che è un sabato 23 di luglio per l'ora per il posto forse meglio magari aggiornarci più avanti perché comunque manca ancora un mese però mi sembrava giusto visto che la cosa si è sviluppata per la maggior parte su facebook mi sembrava giusto fare un video anche qui su youtube per per informare chi magari facebook non non ce l'ha o si rifiuta di averlo quindi l'idea è questa vederci a milano conoscerci un po fare una passeggiata prenderci 300 milioni di gradi e sudare come dei pinguini all'equatore e basta se l'idea vi piace fatemelo sapere e poi più avanti comunicheremo il luogo dell'incontro e l'orario comunque io di solito quando vado a milano arrivo verso le 11 insomma una cosa del genere riparto verso le 6 si può anche cioè se uno non può esserci tutto il giorno può anche raggiungerci a un certo punto della giornata andare via prima insomma una cosa molto libera molto molto tranquilla e molto autogestita basta penso di aver detto tutto se avete qualche domanda qualche osservazione eccetera fatemelo pure qui sotto e ciao ciao